Bhavagavgita Yogi Ramacharaka La dottrina interiore Colui che nella sua ignoranza pensa io uccido o vengo ucciso chiacchiera come un bambino a cui mancano i lumi della conoscenza in realtà nessuno può uccidere e nessuno può essere ucciso accogli nel tuo intimo questa verità, oh principe in effetti l'uomo reale, lo spirito dell'uomo non è nato, né può morire non nato, non mortale, antico, perpetuo, eterno è durato e durerà per sempre il corpo può morire, essere ammazzato, completamente distrutto ma colui che l'ha occupato rimane illeso come può un uomo il quale è a conoscenza della verità che l'uomo reale è eterno, indistruttibile, superiore al tempo, al cambiamento commettere la folia di credere di poter uccidere o far uccidere, oppure essere ucciso lui stesso come uno che si disfa dei suoi vecchi abiti sostituendoli con altri nuovi più belli così anche l'abitante del corpo dopo aver abbandonato la sua vecchia casa mortale vada ad abitare altrove in altre nuove pronte per riceverlo le armi attraversano e non tagliano l'uomo reale il fuoco non lo brucia, l'acqua non lo bagna il vento non lo asciuga, ne lo disturba col suo soffio già che egli è intangibile, è impenetrabile e queste cose appartenenti al mondo del cambiamento è eterno, permanente, immutabile, inalterabile egli è reale e la sua essenza è immutabile, impensabile, inconcepibile, inconoscibile perché dunque ti lasci infantilmente sopraffare dal dolore se per caso non credi a queste cose e vivi nell'illusione della credenza nella nascita e della morte quali realtà allora? ti dovresti chiedere perché ti lamenti, ti addolori già che se quest'ultima alternativa è vera è certo che tutti gli uomini come sono nati così debbono morire quindi perché accorarsi per ciò che è inevitabile? per coloro i quali far difetto la saggezza interiore non vi è alcuna nozione riguardo a donde veniamo e donde andiamo essi sanno solo quello che avviene nel momento per quale motivo allora dovrebbero preoccuparsi per quella cosa o per questa? e cosa la servirebbero i loro danni? alcuni hanno grande curiosità ad apprendere qualche cosa attorno all'anima mentre altri sentono parlare e parlano di questa con incredulità mancanza di comprensione nessuno con l'intelletto mortale comprende realmente il mistero né lo conosce nella sua vera essenziale natura malgrado tutto quanto ne sia detto ed insegnato e pensato quest'uomo reale che dimora nel corpo o argiuna è invulnerabile al male, alle ferite, alla morte quindi perché ti preoccupi ancora per te di cose?